Un appuntamento importante per il Mediterraneo, per l'Italia e in questo caso anche per la regione Campania, la Borsa Mediterranea del Turismo. Sicuramente questo è un luogo, potremmo definire una borsa, un mercato nel quale ognuno fa mostra di sé e compete. E questo porta a mettere in risalto la considerazione che in una certa misura il sistema turistico dovrebbe muoversi meno per dinamiche spontanee, quasi casuali e acquisire più una dimensione di sistema e direi una dimensione di sistema mettendo in evidenza la dimensione economica. Questo è quello sul quale il tempo storico che stiamo vivendo ci chiede di impegnarci con maggiore attenzione. La nostra regione è davvero competitiva quanto a cultura, monumenti, accoglienza e quindi ci sono altre iniziative che possono ampliare sempre di più l'offerta turistica della nostra campagna. Questo è vero, sì. Noi abbiamo una qualità e una quantità di offerta turistica straordinaria, direi forse che siamo un caso unico, però più che guardare all'ampliamento dell'offerta turistica, io guarderei alle dinamiche e alle dimensioni della domanda già attuale. Per certi versi su alcuni settori, su alcuni mercati, per alcuni sistemi, noi non abbiamo il problema di aumentare l'offerta, abbiamo il problema di cogliere meglio la domanda, rallentare alcuni flussi di presenza, fare in modo che questi flussi di presenza lasciano un po' più di ricchezza e di conseguenza organizzare il sistema per cogliere perché i turisti arrivano, definirne le motivazioni e organizzarci di conseguenza. Il problema, mi crede, è un po' meno sull'offerta, è un po' di più sull'analisi delle dinamiche della domanda. Visto che rappresentiamo un programma che si occupa di turismo in camper, lei parlava di flussi di presenze, che cosa ne pensa di questo turismo? Guardi, quella è una fascia estremamente interessante, le do una prospettiva forse falsata che è quella della mia provincia, la provincia di Avellino. Noi abbiamo un flusso di camperisti molto interessante, non siamo sempre organizzati per raccogliere questo flusso, non siamo sempre ben organizzati per fare in modo che questo flusso lasci un po' più di ricchezza sul territorio, lo sfrutti di meno, se mi consente, dal punto di vista delle bellezze naturali, ne colga un po' di più la dimensione intima, quella umana, resti un po' di più. E questo sta a segnalare come la questione non è sull'offerta, la campagna ha già un'offerta enorme, la questione è comprendere la domanda e comprendendo la domanda fare in modo che questa diventi un valore economico un po' più alto per il nostro territorio. Senza dubbio il nostro turismo è portatore di ricchezza, l'ha anticipato anche lei prima, e a tal proposito state pensando di organizzarvi meglio per garantire un'accoglienza migliore, come appunto diceva, a chi pratica il turismo in campo? Sì, questo sì, guardi, proprio nelle aree interne, la consapevolezza che sta maturando nel corso di questi ultimi anni di come il fenomeno camperista abbia una sua specificità, gli interventi infrastrutturali che si stanno immaginando sono proprio in quella direzione, perché un camperista che trova una condizione di accoglienza migliore resta un po' di più, chi la trova un po' di meno prende passa e va via. Quindi da questo punto di vista gli enti locali stanno guardando in questa direzione.